Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Siamo giunti al dodicesimo capitolo di questo nostro mini corso per videomaker. Oggi parliamo di audio e l'audio è una componente fondamentale e spesso un po' sottovalutata quando andiamo a creare un video. Un buon audio vale più della metà in un video, infatti possiamo avere delle immagini bellissime ma se poi i dialoghi non si sentono avremmo gettato tutto il nostro lavoro nella spazzatura. Il suono si sposta sotto forma di onde sonore trasportate dal vento e il suono si sposta più lentamente della luce. Per questo ad esempio quando assistiamo a un temporale magari magari da molto lontano vediamo prima il lampo e poi dopo un po' sentiamo sentiamo dopo un po' sentiamo il rumore del tuono. Le onde sonore sono caratterizzate da un'ampiezza ovvero la distanza tra il picco massimo e minimo nell'onda e da una frequenza ovvero il tempo che trascorre tra i vari picchi. Maggiore il numero di picchi al secondo più alta la frequenza. Inutile dirlo poi i suoni devono essere sincronizzati con l'immagine ed è anche a questo che serve il chuck nel cinema. Spesso sostituito quando non servono informazioni sulla scena che stiamo girando da un semplice battito di mani. Ma ci possono essere dei suoni anche non sincronizzati provenienti da sorgenti che non si vedono nell'inquadratura e che possono così aggiungere ulteriori livelli di lettura alla scena. Quando andiamo a registrare un dialogo il microfono va tenuto il più possibile vicino al soggetto sia per avere la registrazione migliore sia per registrare il meno possibile il rumore di fondo. Perché così come qualsiasi ambiente ha una sua tipologia e una pur minima quantità di luce così ogni ambiente ha i suoi suoni. Il cosiddetto rumore d'ambiente il suono del silenzio. Se ci pensate dei rumori di fondo servono sempre per creare ad esempio un'atmosfera o per avere del rumore d'ambiente da utilizzare nelle pause tra i dialoghi durante le quali se no avremo il silenzio assoluto che non è reale. Per cui è buona pratica alla fine delle riprese oppure anche prima se abbiamo del tempo registrare qualche minuto di audio d'ambiente negli spazi nei quali effettueremo o abbiamo effettuato le riprese. Rumori d'ambiente che al montaggio ci potrebbero tornare molto utili. Ma come prima dici di evitare di registrare il rumore di fondo e poi ci dici di registrarlo alla fine delle riprese? Beh registrandolo alla fine delle riprese avremo rumore d'ambiente su una traccia separata rispetto ai dialoghi e questo ci potrebbe tornare molto utile in fase di montaggio dandoci maggiore libertà invece che avere tutte e due dialoghi e rumore d'ambiente sulla stessa traccia. Videocamera e registratori convertono il segnale analogico proveniente dal microfono in un segnale digitale campionandolo ad alta frequenza. Più alto il numero di campioni al secondo più il segnale digitale si avvicinerà alla forma d'onda analogica originale. Le frequenze di campionamento più comuni sono 48 kHz e 44,1 kHz ma alcuni registratori esterni come ad esempio lo zoom h4n pro arrivano anche a 96 kHz. Invece i microfoni incorporati delle nostre mirrorless o reflex non consentono di avere una buona qualità audio nelle registrazioni per cui sarebbero quasi sempre da evitare. Al massimo sono utili come backup oppure per andare a sincronizzare le immagini con l'audio. La scelta migliore è quella di utilizzare un microfono esterno magari un microfono mezzo fucile come questo Rode collegato o direttamente alla macchina oppure a un registratore esterno come il già citato zoom h4n pro. I microfoni poi vanno isolati attraverso dei supporti che li tengano sospesi rispetto al supporto sul quale sono appoggiati oppure l'asta il boom questo quello che viene spesso utilizzato nei film per registrare i dialoghi e quest'asta telescopica alla quale si può attaccare il microfono e andare a registrare i dialoghi riuscendo a tenere il microfono indirizzato bene verso la bocca di chi sta parlando per registrare al meglio un dialogo. Il supporto come vedete isola il microfono evitando di avere dei rumori in caso di movimenti accidentali. Inoltre come potete vedere quando andiamo ad agganciare il nostro microfono all'asta vabbè ora qui mi manca proprio il pezzettino che serve ad agganciarlo comunque possiamo avere il rischio muovendo l'asta col microfono attaccato che si possa generare questo tipo di rumore no quindi è sempre buona pratica agganciare con del nastro adesivo questo pezzo del cavo del microfono. Per le riprese in interni poi si utilizza una semplice spugnetta che come potete vedere viene posta sopra al microfono invece nel caso di riprese in esterni è opportuno coprire il microfono con un'ulteriore copertura perché se ci pensate naturalmente in esterna rischiamo soprattutto a causa del vento di avere numerose interferenze nei nostri dialoghi. Inoltre bisogna fare molta attenzione a quei rumori di fondo come ad esempio che ne so ambulanze aerei campane che oltre a rovinare le registrazioni possono creare grossi problemi poi in fase di montaggio. Rischiamo infatti di non avere un rumore di fondo uniforme quando andremo a montare i nostri dialoghi con i campi e i controcampi. Per quanto riguarda poi le connessioni alcune aziende come la Rode producono dei microfoni ad esempio questo mezzo fucile appunto della Rode con attacco jack mini jack a 3,5 mm ma la maggior parte delle telecamere professionali è dotata di ingresso XLR con inoltre la presenza di un filtro low cut che taglia le basse frequenze e un'eventuale attenuazione variabile per gestire i suoni più forti funzioni che comunque sono già presenti su questo modello della Rode. I microfoni mezzo fucile come questo sono molto direzionali quindi tendono a registrare soprattutto nella direzione verso la quale sono puntati mentre tutto ciò che c'è intorno non viene registrato in modo adeguato. Esistono poi anche i microfoni lavalier che sono microfoni tipo questo in particolare questo che sto utilizzando io viene collegato direttamente allo zoom h4 ma possiamo avere anche lavalier wireless senza fili in particolare questi della Saramonic hanno un'unità che trasmette l'audio e un'unità che lo riceve. L'unità che lo trasmette viene agganciata ai vestiti di chi sta parlando e l'unità che riceve invece poi registra dentro allo zoom h4. Il livello sonoro si misura poi in decibel su una scala logaritmica in cui una variazione di 3 decibel corrisponde a un raddoppio a un dimezzamento dell'intensità sonora. Quando si registra bisogna regolare manualmente i livelli al fine di non arrivare a 0 decibel. In questo caso vedete non so se si vede ma penso di sì mentre io parlo ci sono i livelli audio che si abbassano e si alzano a seconda dell'intensità della mia voce. Ecco dobbiamo evitare di far sì che i livelli audio arrivino a 0 decibel perché è un po' come quando bruciamo una fotografia abbiamo le alte luci bruciate quindi non abbiamo dettagli nella foto. Ecco così è la stessa cosa andiamo a bruciare i dialoghi e quindi andiamo a rovinare completamente la nostra registrazione audio. Diciamo che i livelli migliori sono quelli tra meno 12 e meno 6 decibel però dipende sempre da quello che andiamo a registrare perché è chiaro che se registriamo un audio molto basso un rumore molto basso e abbiamo una sensibilità anch'essa abbastanza bassa ecco poi in post produzione dovremo alzare notevolmente l'audio ma in questo caso alziamo notevolmente anche il fruscio quindi bisogna sempre fare delle prove per avere sempre sotto controllo i livelli audio che ragazzi è veramente fondamentale. Bene per cui siamo giunti anche alla fine di questo capitolo e io spero ragazzi di essere stato chiaro spero che quello che ho detto sia stato interessante se avete dubbi o domande lasciatemi come sempre un commento qua sotto a me non resta altro che ringraziarvi della visione delle iscrizioni di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video ciao a tutti